Disperso da ieri sui monti della Val Cavarnia è stato ritrovato questa mattina senza vita un cercatore di funghi di 76 anni di San Nazaro. Gli operatori del soccorso alpino hanno individuato il corpo in un canale e purtroppo l'uomo era già senza vita quando è stato raggiunto. Le ricerche di Giuseppe Caneva erano scattate ieri pomeriggio. Il 76enne era uscito la mattina presto da solo per andare a raccogliere funghi. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo, i familiari hanno dato l'allarme. Sono state avviate le ricerche che hanno impegnato una quindicina di tecnici della stazione Lario Occidentale Ceresio, della XIX Delegazione del Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo. Alle ricerche hanno collaborato anche numerosi cittadini di San Nazaro con il supporto degli amministratori locali. Tecnici e volontari hanno controllato le zone limitrofe al punto di partenza del 76enne e i sentieri che il cercatore di funghi poteva aver percorso. Questa mattina l'uomo è stato individuato in un canale. Quando è stato raggiunto dai soccorritori, purtroppo Giuseppe Caneva era già morto. Il corpo senza vita è stato recuperato dal Soccorso Alpino. Informata la Procura di Como, il magistrato ha già dato nulla ossa per la restituzione del corpo ai familiari per l'ultimo saluto. Grazie. 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 Grazie.